Sono già tre... ...o che voglio venire... ...un paio, un paio, un paio... ...quattro, un paio... ...cimpa con più... ...un paio, tre, quattro... ...venti, quale avete partenza? ...a portato questo momento... ...avate trovato... ...a San Gimignano, San Gimignano, dove? ...a poco... ...ma dove? A Ponsacco, per dire... ...o... ...o più verso San Gimignano, diciamo? ...all'interno, dentro terra... ...alle rilassi per la squadra... ...valutti per la squadra... ...l'interno è, senza conoscere loro... ...oltre la battaglia, ne vediamo... ...alte più... ...di tutti... ...e all'estate a Franco, a guidare il gruppo... ...teguiggio da Pessure, Bellusco, Red Lex... ...Cardano, Bellusco... ...i gruppo, la sua attenzione tra scambasso... ...la tornata su questo momento... ...dalla variante... ...a possibilità di sottoporto per il Armio... ...el squadro... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.